Zombie Apocalypse Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Cyber Rhinos Vapo intanto vi chiedo scusa per l'assenza in questo periodo ho fatto più di due settimane di assenza dei video purtroppo ho avuto dei problemi, insomma degli impegni non dei veri e propri problemi, non degli impegni quindi ho ritardato un po' con i video però oggi sono qua a presentarvi un nuovo prodotto acquistato dalla Cina, un clone si chiama AT24, AT24 doppia entrata dell'aria da sotto e dai lati quindi tipo un Kennedy e anche come un Goon quindi con la doppia entrata abbiamo più aerosità potremmo scegliere se aprirla o chiuderla poi vi faccio vedere bene da vicino scatolina arriva così in latta prezzo siamo sui 10 euro circa non troppo dispendioso logicamente questo è un clone dell'originale dell'AT24 quindi il prezzo sicuramente più a portata di mano adesso andiamo a vederlo di vicino faremo una rigenerazione insieme e poi andiamo a fare una prova di svapo andiamo a vederlo da vicino ecco qui AT24 apriamo la sua scatoletta simbolo del colore che sarà il dripper vape breed AT24 24 LDA made in cina preso su 3F vape prezzo di vendita circa 10 euro una cosa del genere ora non mi ricordo bene all'interno troviamo cacciavite a taglio questa volta abbiamo le viti a taglio o ring di riserva e anche due coil prefatte che probabilmente saranno in acciaio in cantare poi andremo magari con un magnete a vedere di che materiale sono fatte queste coil che noi non andremo logicamente ad utilizzare all'interno troviamo l'AT24 lo mettiamo un attimo da parte vediamo se sotto alla scatola troviamo qualcos'altro nulla quindi arriva così cattolina di latta con due resistenze cacciavite a taglio o ring di riserva e anche quattro viti di ricambio per il nostro AT24 andiamo ad aprirlo arriva con un pezzettino di carta plastificata questo è l'AT24 un drip tip veramente importante quindi sia alto che va a ridurre un po' gli spruzzi in bocca quando andate a drippare in più vi dissipa meglio anche il calore non essendo proprio troppo attaccato alle coil fa un po' più da cammino entrata dell'aria quelle che parlavamo l'entrata dell'aria sotto due entrate dell'aria regolabili da una ghiera possibilità di chiuderle totalmente o di aprirle quanto si vuole per la regolazione dell'aria inferiore regolazione dell'aria laterale quindi abbiamo due fori dell'aria anche laterali possibilità come vedete di andare a chiudere o aprire i due fori laterali quindi si può utilizzarlo sia tutto aperto sotto e sopra chiuso sotto aperto sopra chiuso sopra aperto sotto diventa tipo un Kennedy noi faremo le varie prove così vedremo quale rende di più il dripper è fatto bene sinceramente come materiale non sembra veramente male andiamo ad aprirlo vedete come è fatto dentro il cap ha praticamente le lamelle che andranno a chiudere i fori dell'aria quelli laterali invece sotto non è proprio come un Kennedy con i camini ma avete tre fori di qua e di là per l'entrata dell'aria sottostante torrette belle resistenti abbastanza grosse quattro viti a taglio per andare a serrare il filo quindi meglio queste sinceramente che le solite brugole perché le brugole tendono a spanarsi quindi quattro fori possibilità di montare dual coil quad coil o quello che più ci piace fuori abbastanza larghi da poter montare anche i fili un po' più complessi ora andiamo a rigenerarlo insieme e facciamo poi una bella prova di svappo bene ragazzi il filo che andrò a utilizzare per rigenerare è un flepton un flat wire quindi un klepton però schiacciato per quello flat andiamo a toglierlo nella sua scatoletta vedete è un SS316L 24-32 24 interno 32 esterno quindi abbiamo una buona superficie di vaporizzazione essendo piatto abbiamo più superficie e essendo un klepton alla fine avremo anche più vapore andiamo a fare con questo filo qui faremo 7 spire dovrebbe venire fuori un risultato di circa 0,18-0,20 ohm non troppo basso quindi non andremo proprio non farò una rigenerazione da tubo ma farò una rigenerazione praticamente da per la noisy 2 messa in serie andiamo a girare il filo facciamo le nostre 7 spire 1 2 3 4 5 6 7 spire di flepton eccole qui in acciaio 316 una coil pronta prepariamo le seconde un giro 2 giri 3 4 5 6 7 giri andiamo a stringerla pronta l'altra coil 2 coil in flepton come vi dicevo raddrizziamo le nostre coil non abbiamo grossi problemi perché qui abbiamo visto che i fori sono alla stessa altezza quindi riporteremo il filo alla stessa altezza facciamo una piega ed eccolo qui pronta la prima coil da inserire prepariamo anche la seconda abbassiamo il filo facciamo una leggera piega eccola qui pronta andiamo a svitare useremo il suo cacciavitino a taglio la montiamo sopra la vismec RX200S per fare le prove degli home io non ho mai preso un tub perché sinceramente ho preferito spendere i soldi in dripper in liquidi o in altro e quindi non mi sono mai andato a prendere un tub il buono di queste torrette avendo la vite in alto se si vanno a usare fili così tipo flepton alien o naggered cosa del genere non avremo problemi che il filo si giri come nei dripper dove abbiamo le viti ai lati fuori tutti aperti adesso andiamo inserire le nostre coil io le metterò sfalsate quindi così vedendo di farle stare quasi sopra ai fori dell'aria quelli inferiori poi logicamente andremo a raddrizzarle intanto andiamo a chiudere le viti una vite chiusa chiusa la seconda possiamo già andare a inserire l'altra coil falsate praticamente così non abbiamo problemi di incrocio anche dei fili anche questa la portiamo sempre sopra ai fori dell'aria di sotto andiamo a stringerla vedrete bene le viti andiamo a raddrizzare le coil che vedete che sono storie quindi raddrizziamolo le spostiamo un po' più sopra i fori ecco qui molto meglio stessa cosa con l'altra tagliamo le eccedenze ecco qui l'altezza delle coil vediamo di tenerle sempre uguali quindi alziamo appena appena pronte qui le due coil volendo si possono alzare ancora un po' così aiutiamo anche per l'entrata dell'aria laterale ed ecco qua le due flepton pronte risultato andiamo a vedere quanti ohm come vi dicevo 0,19 ohm io vi avevo detto 0,20 chiamo sui 0,19 ora andiamo ad attivarle è una bella pettinata pettinandole le allarghiamo anche un pochino oltre per togliere le microsaldature anche per un fatto di aroma questa già accende meglio questa ancora un attimino da regolare ancora qualche piccola microsaldatura eccole qua pronte ora le raffreddiamo le raddrizziamo ancora un attimino e poi siamo pronti per metterci il cotone andiamo a cotonare cotoniamo con native wick in un blend io mi trovo molto bene con questo cotone non ho mai sentito gusti strani sotto o altro perché mi è capitato con i muji che sotto mi rilasciava dei gusti strani che percepivo logicamente il cotone come i liquidi come i dripper come i fili sempre questioni personali a ognuno piace una cosa a uno piace l'altra non siamo qui per imporre le nostre idee ma solamente per dare dei consigli da appassionato cotoniamo ricordo sempre a tutti quelli che mi seguono che i miei sono video informativi miei pareri miei opinioni miei gusti poi se qualcuno ha i miei stessi gusti tanto meglio ci troviamo insieme sullo stesso piano ma io non voglio obbligare nessuno a fare quello che faccio io sono solo semplici idee non sono un guru dello svapo non sono il maestro non sono nessuno sono solamente un appassionato con tanta voglia di provare varie cose allora andiamo a mettere il cotone sotto ho fatto delle coil abbastanza grandi mettiamo il cotone sotto ecco qui spazio per il cotone non manca un bel deck sinceramente ecco qui allora le due coil sono pronte abbiamo cotonato in questo momento abbiamo i fori dell'aria sotto aperti andiamo a bagnare lo bagniamo con un milas macaron al pistacchio ragazzi qualcosa di favoloso vi farò una recensione dato che ultimamente vedo che molta gente sta recensendo liquidi io fino a poco tempo fa ero un po contrario perché già lo svapo è una cosa veramente personale andare a recensire liquidi e come recensire bombe che si recensiscono i piatti magari uno dice il più buon formaggio della mia vita uno il formaggio magari fa anche schifo quindi vedete allora però io già sono un amante del pistacchio questo qui più che un macaron al pistacchio mi ricorda veramente un gelato di ottima qualità al pistacchio bagniamo bene le coil prima attivazione eccolo qui pronto adesso andiamo a chiuderlo abbiamo una resistenza di 0,19 ohm come vi dicevo vado a chiuderlo tenendo i fori sempre verso le coil eccolo chiuso siamo a 110 watt e così viene fuori il nostro atti 24 adesso andiamo a fare una prova di svolta eccoci ragazzi atti 24 vape breed da una parte abbiamo scritto atti 24 dall'altra vape breed filippines montato sulla mia noisy 2 25 mm non sborda questo è un 24 mm allora l'ho messo in serie e siamo circa sul 50% facciamo una prova di svapo vediamo come rende questo dripper l'ho preso oltre per come è fatto l'ho preso per il fattore dell'aria sotto e sopra per vedere le varie regolazioni dripper abbastanza importante facciamo una prova allora prime considerazioni a Roma devo dire che si sente bene questo liquido lo conosco quindi so come rendere i vari dripper l'ho provato nel Kennedy l'ho provato nel Goon l'ho provato nel Troll l'ho provato nel Goon LP nel Velocity l'ho provato in abbastanza dripper devo dire che qui come a Roma si sente molto bene vaporosità avete visto ne fa tanta logicamente anche poi usando fili lavorati più fili lavorati usate più particolari hanno questi fili logicamente più vapore fanno perché il liquido penetra dentro il filo e poi va in evaporazione quindi i fili contano molto logicamente per il vapore io qui sono andato a mettere questi flepton quindi se voi provate con dei fili normali magari vi può fare un po' meno vapore clepton flepton alien wire staggered coil poi ce ne sono un'infinità adesso vi ho detto quelli più utilizzati per fare più vapore e avere più aroma io ora provo adesso ho provato a svappare con i fori tutti aperti sopra e sotto ora proviamo andare a chiudere solo i fori sopra chiudiamo e lo andiamo a usare praticamente come un Kennedy tiro molto più chiuso un po' più chiuso forse di un Kennedy ma secondo me è molto più aromatico di un Kennedy ora chiudiamo i fori sotto chiusi e apriamo i fori sopra aperti i fori sopra dovrebbe essere tipo un gum più vapore un buon aroma allora sinceramente dai due tiri che ho fatto dai tre tiri che ho provato ho visto che mi piaceva molto molto di più tutto aperto sopra e sotto ottima erosità prende molto meglio secondo me dripper facile da rigenerare doppia entrata dell'aria laterale e sotto quindi potete divertirvi drip tip alto e abbastanza largo quindi non avete problema di spruzzi e non avete problema di riscaldamento AT24 vape breed io ho preso il clone 3F vape 10 euro secondo me un buon dripper aromatico e ben arioso è bello anche che abbiamo i doppi fori per la doppia entrata dell'aria per aumentare l'aromaticità ragazzi come sempre se vi è piaciuto il video mettete un mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi zombie apocalipsis iscrivetevi al canale grazie a tutti Grazie a tutti